Come succede ogni tre anni, a inizio marzo, in tutti i punti vendita di Unicop Firenze, i soci sono stati chiamati a votare i loro rappresentanti su ogni territorio, per rinnovare i consigli delle 38 sezioni soci cop presenti in 7 province toscane. Secondo lei perché è importante votare? Il punto soci, ci sono le iniziative, basta guardare le iniziative e si vede che è importante. Lo spirito della Coppel è lo spirito sociale, è nato con questo spirito, quindi i soci sono importanti altrettanto quanto i clienti, perché i clienti portano soldi, i soci oltre ai soldi portano, secondo me, anche motivazioni. Debbano operare in modo tale che questa cooperativa diventi sempre più grande, più accogliente e che possa offrire alla cittadinanza un po' un servizio sempre più efficiente. È importante partecipare, sì, è vero. E proprio la partecipazione è aumentata rispetto alle elezioni del 2014. Sono cresciute del 10% le proposte di candidature, ma il segno più ha riguardato anche i soci che hanno scelto di andare alle urne. Il giudizio che la nostra cooperativa dà di questa tornata elettorale è molto positivo, perché c'è stata una grande partecipazione dei nostri soci per scegliere ed eleggere i propri rappresentanti. Hanno votato 58.100 soci con un incremento del 15,15% rispetto alle elezioni del 2014, quindi un risultato molto importante. I volontari delle sezioni soci Coop eletti su ogni territorio sono l'anello di congiunzione tra i consumatori e la cooperativa e organizzano iniziative in tanti ambiti, cultura e turismo, ambiente e solidarietà, legalità e cittadinanza, fino ai diritti dei consumatori. Sono stati eletti 722 nuovi consiglieri, dei quali 265 sono neoeletti, cioè eletti per la prima volta, che rappresentano il 37% di tutti gli eletti, mentre il 52% degli eletti pari a 377 sono donne. In questi giorni si stanno concludendo le riunioni dei consigli delle sezioni soci per scegliere i nuovi presidenti e i nuovi organismi direttivi entro il prossimo 31 marzo.